Dalla tarda serata di ieri la nostra provincia sta facendo i conti con una forte perturbazione atmosferica, le quantità di pioggia più significative sono state rilevate nella valle del sabato dove sono caduti fino a 60-70 mm di pioggia. Il primato da questo punto di vista spetta proprio alla città di Avellino. Quantitativi di pioggia di una certa rilevanza, seppur leggermente meno significativi di quelli appena citati, sono stati misurati anche sui monti del Pardegno, in particolare nella fascia pedemontana, ci riferiamo soprattutto ai comuni di Ospedaletto d'Alpinolo e su Monte. La pioggia è stata accompagnata anche da forti raffiche di vento che hanno raggiunto picchi di velocità pari a 80-90 km orari. Ci aspetta per le prossime ore, Dottor Capozzi. Dunque, la parte più intensa di questa perturbazione si è rapidamente allontanata dalla nostra provincia. Il tempo però non volgerà al bello, ci aspettano ancora alcune ore di tempo instabile molto variabile. Nel primo pomeriggio saranno ancora possibili scrosci di pioggia di forte intensità, soprattutto al ridosso dei principali comprensori montuosi. Ci riferiamo dunque ai Monti del Partenio, a quelli del Vallo di Lauro e anche alla fascia dei Monti Picentini. Tempo molto variabile anche domani, con precipitazioni concentrate per lo più nelle ore pomeridiane e serali.